Buonasera Roberta Calandra. Buonasera a lei Lidio. E grazie, grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per condividere questa storia, anzi per condividere queste storie. Sono storie molto singolari perché nello stesso tempo sono storie plurali, plurali nel senso anche che interessano tutti quanti noi perché tutti attraversiamo o siamo attraversati dalla parola amore. Il libro si intitola Otto. Tutti siamo tutti. La prefazione è dello scrittore Giovanni Mastrangelo e la casa editrice è per l'appunto l'edizione Croce. Roberta Calandra, partiamo dall'immagine di copertina perché è un'immagine a me molto cara perché amo particolarmente i fili di perla. Tra l'altro vorrei ricordare che Roberta Calandra è scrittrice, sceneggiatrice, autrice, drammaturga e questo libro nasce da una drammaturgia di uno spettacolo che ha vinto il premio Elsa Morante nel 2012. Ma andiamo a vedere, come si diceva una volta a scuola con parole sue, l'immagine della copertina. Ce lo vuole raccontare? Sì, mi fa molto piacere che mi faccia questa domanda perché l'immagine è una collana di perle intrecciata a otto, quindi ribaltata nel segno orizzontale dell'infinito. Sono le mie vere perle regalate ai 18 anni dei genitori, quindi è proprio un oggetto che ha anche un senso per la mia vita e vuole giocare ovviamente con il senso dell'infinito, con il numero otto perché i personaggi sono due ma sono otto e questa è un po' la chiave narrativa del romanzo e nello stesso tempo le perle sono qualcosa che si sfila, che collega il tempo e che lo scollega, che lo unisce e che lo separa in qualche modo. Quindi nei passaggi tra le varie epoche queste perle vanno a aprire il nuovo secolo, aprire il nuovo incontro. Aprire il nuovo incontro è questo filo di perle che una volta chiuso, chiuso il libro, anche se in forma virtuale, sono ritornato all'immagine della copertina. Roberta Calandra mi sono detto, al di là del mio piacere del filo di perle, perché è sempre di una straordinaria eleganza, in ogni modo il filo di perle, e la parola eleganza è anche proprio legata, mi sono detto, alla scrittura di questa storia, ed è un'eleganza non ricercata a tutti i costi, ma un'eleganza che si tocca con mano leggendo, che si condivide nell'attimo stesso della lettura, Roberta Calandra. Che dire? Grazie. A cosa si dice un'affermazione del genere? Si risponde grazie. E certo, la parola grazie... L'eleganza è forse nello snodarsi anche della storia delle persone, anche un po' nella ricerca della simmetria, no? Io non sono una grande mente matematica, ma devo dire che in questo senso invece la ricerca della simmetria è stato uno spirito guida. non è una grande esperta di matematica, ma ci ha fatto comprendere Roberta Calandra che è un'esperta di matematica d'amore, quanto meno, no? E non vorrei che i nostri ascoltatori pensassero che questa possa essere una storia così molto semplice. È una storia complessa, anche se con una lettura straordinariamente bella, come dicevo poco fa, si va subito dentro questa e queste storie. Faccio fatica, Roberta Calandra, a parlare al singolare, a parlare al plurale, perché è veramente una infinità di storie e di una sola storia infinita. Ecco, questo romanzo, lei ha detto, i protagonisti sono due, ma in verità sono otto, ed è questa già una particolarità, una particolarità che nasce, potremmo dire, Roberta Calandra, che è questo il primo cube de teatro del suo libro. Beh, effettivamente è uno schema matematico, otto una formula, quindi io giocando dico che è Orlando per quattro e probabilmente a livello semi-incosciente ha giocato veramente la situazione dell'Orlando. Che cosa dire? Mi permetta di svelare, insomma, il contenuto della formula. Sono quattro coppie e queste quattro coppie giocano in un waltzer di cambio di sesso, perché noi partiamo con un libertino, una rivoluzionaria, li troviamo in due poeti, li troviamo in due internate in un lager e li troviamo scambiati come un'altra. Una regista è un attore dei nostri giorni, inquieti e tricchi. Ecco, questo è il gioco di otto e può rimanere una suggestione letteraria o può essere letto davvero come una storia di reincarnazione. Questo poi è interessante che ognuno veda come è abituato a percepire la vita. Ma certo, ma questa non è solamente un'invenzione letteraria, un'invenzione narrativa, ma è qualcosa che entra anche direttamente nelle nostre vite, perché sì, è vero, qui siamo nella finzione narrativa, ma la finzione analizza, distilla, se possiamo dire, distilla la realtà, pone lo sguardo, in questo caso, di Roberta Calandra su alcune vite per condensarle, sintetizzarle, mai omogeneizzarle, questo no di certo. E partiamo, e partiamo Roberta Calandra a conoscere i personaggi. Forse non tutti sanno di una straordinaria figura di donna, Olympia de Couges, francese. Qui abbiamo uno spirito veramente di estrema libertà, siamo a fine Settecento e le donne non erano così libere. Olympia però rappresentava la libertà e anche in questa coppia, rappresentata da Olympia e Philippe, è una coppia tumultuosa per molti aspetti. Eh sì, eh sì, diciamo che tutti questi personaggi sono in maniera più o meno esplicita collegati e ispirati da figure storiche, a volte anche fuse tra di loro. Olympia è proprio ispirata a Olympia de Couges, che è questa donna che si occupò di diritti delle donne durante la rivoluzione. Filippa, una sintesi di vari alchimisti, alchimisti da appunto Cagliostro, ci sono tante tante forme di pensiero dell'alchimia e anche il Marchese de Sade, insomma ci sono vari spunti di grandi solitari della storia. E quindi diciamo, mentre la parte storica che racconta Olympia è legata effettivamente ai veri eventi della rivoluzione, il mio azzardo poi è stato invece inventare questo trama passionale con un libertino, che probabilmente non ha nulla a che fare con la vera vita di Olympia. È un misto di ispirazione e di invenzione. Ispirazione ed invenzione. Dove sta la differenza tra queste due parole, Roberta Calandra? Dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto forse che l'ispirazione è illogica mentre l'invenzione è razionalmente guidata, direi così, al primo impatto. Lei già ci stupisce proprio l'inizio del libro e ci fa entrare in quello che lei diceva poco fa, la figura dell'otto, ma sembra di entrare tutto subito non dentro quella figura a cui si accennava poco fa del filo di perle che forma il segno dell'infinito. Ma lei ci dice che ogni storia ha per sua stessa definizione un inizio. Alcuni sono possibili, poiché la piena verità di un concatenarsi di Aventis fugge di mano anche al suo più attento protagonista. Ecco, e qui possiamo entrare, sembra di entrare invece in una zona labirintica. Ed è proprio questo labirinto. E forse, sempre che io abbia inteso bene le sue storie, la sua storia Roberta Calandra, se non è un labirinto non è per forza di cose un percorso dell'anima, non è la nostra esistenza. In sostanza queste tre parole che lei pone all'inizio, no? Le evidenzia in eretto alla parola anima, la parola esistenza, il verbo nascere. Ecco, e questo fa parte del labirinto della nostra vita, oltre che della vita di questi protagonisti. Allora, mi fa molto piacere che lei abbia notato, è la prima persona che in un'intervista appunto mi permette di giocare, svelare questo gioco, che ogni capitolo è preceduto da alcune definizioni dell'Enzito. Vedi, quindi c'è chiaramente un gioco con l'idea stratta e teorica dell'amore. E poi, io diciamo, l'idea mi venne tantissimi anni fa, più di venti, e nacque originariamente come sceneggiatura, poi ci ho messo tanto ad arrivare a farne il romanzo. Nel frattempo uscì Cloud Atlas, che in realtà è qualcosa di molto più simile alla mia idea originaria, una simultaneità di piani temporali. Ma per comodità di racconto, invece qui siamo su un tempo lineare, la storia del 1800, la storia del 900, la storia del presente. Però mi piace pensare che questi quattro piani si possano un po' confondere, e possano anche un po' confondere il lettore. Altro che confondere il lettore, poi, questo libro, una volta chiuso, confonde anche nella vita personale, perché... Questa non voleva. No, ma non voleva, però è normale, perché il libro, quando uno lo legge, poi se lo porta dietro, ma se lo porta soprattutto dentro. E io vedo qui una sottolineatura, e le pongo la domanda, leggendo esattamente quello che ho sottolineato tra le molte cose. Come comincia un amore? E perché? Queste sono domande che rimangono dentro il libro, nel senso che poi è, credo, il meccanismo più irrazionale, più inspiegabile che ci troviamo tutti quanti a vivere, in forme molto diverse. Sicuramente, avendo io poi una forte appartenenza al tema della religione buddista, per me è una pratica quotidiana, l'idea che ci siano questi legami così detticarmici, ovvero che ci siano degli incontri particolarmente significativi, che vita per vita ci fanno evolvere, ci sottopongono a prove, a prove vere e proprie, è un'idea che mi ho sempre seduto e che in effetti vedo anche abbastanza reale nel piano pratico delle nostre esistenze. Ma dal pratico passiamo anche al metafisico, perché anche qui c'è un percorso interessante. A un certo punto del libro si parla proprio di porre le basi dell'anima, perché spesse volte si separa il corpo dall'anima, e qui lei ha detto la pratica orientale di meditazione, ma credo che siamo dentro a questa cosa. Però occorre considerare sia il corpo e l'anima uniti per spiegare veramente la nostra esistenza, Roberta Calandra? Mi chiede veramente qualcosa su cui credo che la religione dall'inizio dell'umanità sia interrogato. Quello che sicuramente anima e seduce l'idea di Otto è proprio che esista un nucleo ineffabile di componenti che vanno poi di vita in vita a muoverci in dei compiti. Non so, il codice dell'anima di James Tillman parla di questo, parla di una ghianda animica che poi dà vita alla quercia, che rende un'esistenza specifica, che sia Jim Morrison o che sia Hitler. Quello che a me piaceva fare era proprio raccontare questo alternarsi di ruoli, quello che poi la tradizione orientale chiama legge del karma, ovvero non te la scampi, se in una vita sei una persona molto aggressiva e collerica, nella prossima un pochino ti tocca imparare l'unità. E quindi poi il grande gioco di Otto è fare cambiare, oltre che i sessi, anche i ruoli psicologici di questi personaggi per farli imparare quante più cose possibile. Eh sì, i ruoli psicologici di questi personaggi sono difficili, sono difficili perché necessariamente poi la vita è difficile, quando mai la vita che fa capolino dappertutto è una cosa semplice, anche quando viviamo questi cosiddetti malatempora, ma ci sono sempre stati i malatempora, e queste storie che si avvicendano in questo libro intitolato Otto, noi abbiamo conosciuto i primi due personaggi, però poi ce ne sono altri. La seconda storia d'amore, qui ci porta, ci avviciniamo sempre di più nel tempo, come ha detto poco fa lei, Roberta Calandra, siamo nei primi dell'Ottocento, siamo in Inghilterra, Gabriele e William, destinati a riconoscere quando poco fa parlavo di anima e di corpo, ecco qui veramente l'anima e il corpo diventa una cosa sola. Sì, diciamo è forse la più contrastata tra le storie, nel senso che comunque un amore omosessuale nell'Ottocento, già ben dopo Wilde ci insegna la difficoltà di un certo tipo di desiderio, detto ciò sicuramente la poesia romantica si presta moltissimo a una passione, appunto scurmondranca, così le guerre di indipendenza, così la paura poi della morte, sono anche personaggi che in nome della loro passione rischiano la vita proprio, non è semplicemente la sopravvivenza psicologica o il coronamento di un sogno, c'è proprio la sopravvivenza anche materiale, fisica, all'onore, la prigione, eccetera. E quindi sì, William e Gabriel sono forse i due più radicalizzati, sono i due profili più radicalizzati, insomma il grande combattente e il grande invece esangue, e sono ispirati anche loro chiaramente da Byron, Blake, o Kitz e Shelly vengono degli aspetti, ci sono appunto vari innesti, vari innesti che poi confuiscono a creare un personaggio. E se è combattuta la coppia a cui lei faceva riferimento, quella di Gabriel e William, come non pensare che ci fosse un combattimento, oltre a una distruzione proprio dell'essere umano, cioè mi riferisco alla storia di Milena e Greta, qui c'è una grandissima evocazione in un grandissimo dolore. Sì, perché si svolge in un lager, è ispirata anche questa in maniera esplicita, un dato reale che tra l'altro avvia tra un grande libro della Delphi, Milena e la Mica di Kafka, quindi la narrazione, diciamo, l'ossatura della narrazione lì è la più fedele, è la meno reinventata, la storia è la più disinternata necessariamente, perché si svolge in un lager, quindi i corpi sono già di per sé ridotti a scheletri, però sì, forse è la più poi arresa, diciamo, è la meno conflittuale, la più poetica, sia per la natura femminile dei protagonisti, sia per la pressione della storia, che appunto fa sì che poi due anime speciali si possano incontrare in un contesto così doloroso, berrante e in qualche modo salvarsi. Sbaglio, man mano che ci avviciniamo nel tempo, Roberta Calandra, queste storie perdono, per così dire, quel pathos romantico, come nel caso di Elena e Giacomo. Certo, lì il rischio c'era, infatti è apparentemente la storia meno romantica, ma poi invece se letta con occhi forse più generosi e meno incantati, è la vera storia di eroismo, perché è una cosa che io ribatto sempre, che ai nostri giorni realizzare in maniera quanto più sana possibile una carriera artistica, e vivere un amore all'interno di quella scelta di vita è qualcosa di veramente eroico, veramente eroico. Talmente eroico e a proposito di eroi, ci sono citazioni in questo libro, ma ci sono delle citazioni che non sono presente, che attraversano veramente la letteratura, le ha già citato alcuni nomi, Iliott, Montale, Keats e così via. La loro presenza è una presenza importante, perché attraversa la vita dei nostri personaggi, e non sono messi lì come presenze che fanno, per così dire, capolino e l'occhiolino al lettore, ma hanno una radice vera per entrare in questa storia, sono presenze che contano, non sono semplicemente delle sorprese e basta. Sì, in maniera più o meno cosciente, non a caso poi i capitoli sono preceduti a citazione dell'enciclopedia, mi divertiva comporre una sorta di enciclopedia dell'amore, quindi di citare anche in maniera esplicita appunto i personaggi che lei ha citato, anche altri, e di farne una specie di cornice al quadro di ogni storia per restituire anche alcuni brani letterali del tempo, del tempo che gli otto protagonisti abitano. Una delle cose più belle che possa capitare ai lettori, parlo di me, mi scusi, Roberta Calandra, se compio quest'atto di vanità, è quando leggi un libro e poi inaspettatamente succede qualche cosa che è inerente al libro. Io questo libro l'ho letto durante un viaggio e mi trovavo a Campo dei Fiori. Poi torno a rileggere il libro e arrivo esattamente di nuovo nel luogo dove ero prima come presenza fisica. Sono ritornato a Campo dei Fiori assieme e qui stiamo parlando dell'ultima storia, no? Ed è questo è molto bello quando si interseca la vita reale con la vita di finzione del libro, Roberta Calandra. Beh, Jung la chiamerebbe sincronicità, sincronicità, è in tessuto di sincronicità. Ho dovuto fare uno sforzo per non rendere anzi troppo letterali i richiami e lasciare un pochino l'alone del dubbio e del mistero che poi si vuole leggerlo come una reincarnazione vera e propria può farlo, come una suggestione di tipi dell'anima, archetipi del cuore, può farlo con la stessa identica libertà. Io adesso mi prendo la libertà a proposito di questa parola, Roberta Calandra, di condividere con i nostri ascoltatori i prossimi lettori quattro righe in corsivo che trovo qui sottolineate e dicono l'amore richiede tempo ed energia ma oggi ascoltare chi amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l'altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai nostri è diventato superfluo. L'amore è una fabbrica che lavora senza sosta, ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla settimana. Eh, e che dire di fronte a queste parole, Roberta Calandra? Sì, temoci sia parecchio Ilman dietro queste cose. Eh sì, un lavorio dell'anima qui. Sì, penso sia proprio l'impalcatura di Otto questa frase, insomma lei ha accolto una frase estremamente importante all'interno del romano. Infatti poi poco dopo dice figo questo questo Ilman e quindi c'è anche questa 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 ma ridimensionata la serenità sì, già come un ragazzone però anche questo mi divertiva chiudere con un eroe ragazzone insomma con uno che va magari a buttare i petardi a Genova ed è convinto che siccome è bello diventare ricco e famoso mi divertiva affidare a una persona così un po' imprevedibile tra le finale della storia. Lei ce l'hai libero portata di mano Roberta Calandra e allora quale passo ci legge? Ma allora siccome per me è difficile scegliere tra le mie parole che già sono un mosaico di parole e altri io se mi consente prenderei questo grande regalo che è la prefazione di Giovanni Nostrangelo e magari leggiamo un pezzettino Prego Allora Giovanni mi scrive il filo che lega la storia e le storie di questo romanzo è il sveglio della coscienza femminile che può e deve entrare nell'essenza profonda di uomini e donne perché intesa in un quadro universale che include ogni gender ogni categoria umana ogni materia non a caso Calandra ci parla già nelle prime pagine di alchimia di trasformazione di una sofferenza necessaria e inevitabile stimolando l'interazione del lettore spingendolo a confrontarsi a specchiarsi in una ricerca costante di si stesso la realtà ogni realtà diventa un'opportunità imperdibile per coltivare il seme che è dentro ognuno di noi entrare con volontà e consapevolezza dentro a otto può dare a qualcuno la chiave per penetrare in una stanza misteriosa surreale e affascinante questo è un grande regalo e queste sono parole molto molto belle per questo libro ricordiamo pubblicato dall'edizione croce l'autrice Roberta Calandra il libro si intitola otto tutti siamo tutti con la prefazione come abbiamo detto poco fa dello scrittore Giovanni Mastrangelo voglio andare per chiudere questa conversazione esattamente all'ultima pagina perché è la prima volta che vedo la parola fine e qualcuno può pensare che sia un refuso tipografico no non è un refuso tipografico perché la parola fine è seguita dal punto interrogativo è molto carina questa obiezione questa interrogazione che lei mi apre perché come se non se ne fosse accorto nessuno e invece anche se può anche svelare chiudiamo felicemente con un parto chiudiamo con una nascita questa saga comunque anche di liti e separazioni incomprensioni eccetera l'idea che non sia davvero finita qui è interessante se vogliamo prendere alla lettera la storia la fabula della reincarnazione insomma questi due continueranno a avere cose da fare nei secoli probabilmente e qui lo lasciamo scoprire ovviamente i nostri ascoltatori prossimi lettori ma prima di salutarci Roberta Calandra invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni il libro che mi fa compagnia in questi giorni in questi giorni non ho un libro particolare sto spiluccando allora che cosa sta spiluccando magari sul suo comodino quali libri quali libri ci sono che aspettano di essere terminati perché sempre ci sono dei libri che magari aspettano di essere terminati per chissà quale motivo poi non si va avanti per mille e una ragione sì devo dire intanto che grazie e purtroppo malgrado diciamo a causa del lockdown sono molto impegnata a scrivere anche libri nuovi quindi quando scrivo libri nuovi leggo di meno però sicuramente stavo non so perché perché poi le chiamate sono curiose rileggendo delle cose di letteratura americana legate alla coppia di Poloster e Sirius loro stavo rileggendo loro in questo periodo e adesso noi ringraziamo ringraziamo davvero Roberta Calandra del tempo che ci ha dedicato e quindi la lasciamo alle sue letture e la lasciamo anche alla sua scrittura del prossimo libro che speriamo di riavere qui per raccontare di nuovo la nuova scrittura di Roberta Calandra intanto grazie ringrazio lei di cuore veramente è stato un bellissimo tempo condiviso grazie a lei Roberta Calandra buona serata buonasera buonasera